Buonasera, scopo di questa presentazione è quello di introdurre un'applicazione pratica di una tecnologia ormai vecchia, la tecnologia plasma. Dico vecchia perché in ambito extraterrestre la tecnologia plasma è ormai assai diffusa e affermata da non so quanti anni. Ad esempio è possibile modificare la superficie delle materie plastiche con il plasma appunto e trasformarle da non bagnabili a bagnabili o verniciabili. Ma nel tessile che applicazioni possiamo trovare? Fino ad ora non possiamo certo dire di aver trovato un'applicazione applicabile in larga scala ed interessante. La diffusione della tecnologia plasma o meglio la sua non diffusione dovrebbe indurre un poco a riflettere su quello che è stato fatto finora. Prima di parlare di applicazioni nuove però vediamo un pochettino cos'è questo plasma. Ecco, abbiamo acceso il gas contenuto in questa camera e adesso è diventato luminescente. Questa luminescenza, che è dovuta all'energia restituita dagli attomi ionizzati sotto forma di energia luminosa, è la caratteristica più visibile del nostro plasma, che per il resto direi che è proprio un gas, palesemente non perfetto, ma sempre gas. Ma da dove arriva l'energia che lo ha ionizzato? Dagli elettrodi, attraverso un fenomeno noto come Glow di Scarge. Dando elettricità a due elettrodi, abbiamo, che se la corrente è variabile, c'è un passaggio di elettricità continuo e modulabile che avviene attraverso due possibili strade. Si possono formare delle microscariche filamentose, una serie di n fulmini, oppure possiamo avere una vera e propria conduzione attraverso le particelle di gas ionizzato e quindi conduttore. Quest'ultimo fenomeno, definito come Glow di Scarge, ha la caratteristica di essere decisamente più omogeneo del primo. Vediamo ora che cosa succede all'interno del gas ionizzato. Esso è elettricamente neutro, ossia per ogni ione positivo si formerà anche il corrispondente ione negativo. Non così invece in corrispondenza delle pareti e degli elettrodi. In particolare verso il catodo, che nelle nostre esperienze funge anche da portacampioni, ossia il piatto su cui è appoggiato il tessuto, vi è una maggior concentrazione di ioni positivi, che attirati dall'elettrodo stesso lo raggiungeranno con una elevata energia cinetica. Specie se, essendo il gas rarefatto, hanno avuto poche occasioni di perdere per collisione questa energia. Di fatto queste particelle positive sono assimilabili ai sassi. Tanto più è lungo il percorso che fanno indisturbati, tanto più è lunga la caduta del sasso, tanto maggiore sarà l'energia cinetica al momento dell'impatto con il substrato. Queste particelle ionizzate che colpiscono il nostro tessuto sono quindi molto ricche di energia. E direi che questa energia è più che sufficiente per rompere i vari legami chimici e quindi andare a provocare evidenti modificazioni chimiche e conseguentemente anche fisiche sulla superficie del tessuto. Il nostro plasma potrà quindi fare due cose molto importanti. potrà costruire ossia legarsi al tessuto e polimerizzare formando dei nuovi strati sulla superficie della fibra, strati che potranno contenere specie reattive non già presenti sul tessuto e che potranno portare nuove funzionalità. Però la chimica macromolecolare ci insegna che le condizioni di polimerizzazione in ambiente plasma ci portano a polimeri molto corti e fortemente ramificati e reticolati e questo per via dell'alto numero di ioni propaganti la reazione di polimerizzazione stessa. Oppure possiamo usare il plasma come mezzo per rimuovere, incidere la fibra distruggendone nella superficie e nello stesso tempo modificare la sua chimica. Più in generale, il plasma è in grado di reagire, di rompere i legami di numerosi composti chimici, specie di strutture fortemente coniugate, che hanno quindi molteplici capacità di assorbimento dell'energia. In particolare, un target interessante potrebbero essere i coloranti stessi, ed in particolare i coloranti dispersi presenti sulla superficie della fibra. Questi coloranti vengono abitualmente eliminati attraverso il tradizionale processo di stripping. E in effetti, lo stripping è necessario per rimuovere l'eccesso di colorante presente sulla superficie della fibra al termine della tintura, in quanto questo colorante andrebbe a portare delle basse solidità ad umido o allo sfegamento. E l'eliminazione di questo colorante avviene solitamente con sistemi riducenti alcalini, quali soda e idrosolfito, avendo un forte impatto ambientale. Inoltre, essendo esso fatto da bagnato e quindi ovviamente prima dell'asciugatura, abbiamo delle limitazioni nei trattamenti termini successivi, in quanto se la temperatura è eccessiva, tipo magari per una termofissazione, il colorante potrebbe nuovamente migrare sulla superficie. Lo stripping fatto con plasma è invece un processo fatto da asciutto e quindi può essere fatto, deve essere fatto dopo l'asciugamento e quindi dopo l'eventuale termofissazione dopo tintura. e quindi non porta a oneri o problemi aggiuntivi, in quanto il colorante viene ben rimosso e al termine di ogni altro processo. E successivamente a ogni altro processo. Il metodo migliore per farlo è in ambiente chiuso, così da raccogliere facilmente i prodotti di degradazione derivanti dalla distruzione del colorante, e di buona parte presenti allo stato gassoso. Nel processo glow discharge è indubbiamente quello meglio controllabile, quello meno sensibile alle irregolarità nella struttura del tessuto. Non è necessario un vuoto spinto, direi che 0,5 Tor sono più che sufficienti e non servono nemmeno svuotamenti spinti all'inizio per purificare particolarmente l'atmosfera. Il sistema scelto non richiede l'uso del costoso elio e i gas esausti sono pochi e facilmente purificabili. Ecco quindi la macchina creata da Plasma Solution e utilizzata per le prime prove. Essa prevede diverse possibilità di alimentazione e tra cui scegliere il gas più adatto per il nostro lavoro. Trattandosi di un'alternativa allo stripping riducente direi che il gas più indicato deve avere effetti riducenti. Ci viene subito in mente l'idrogeno, che è particolarmente adatto alla riduzione di composti organici caratterizzati da molteplici doppi legami. Ma anche il metano in forma Plasma potrebbe essere molto interessante. E perché non il vapore d'acqua? Anch'esso in fase Plasma potrebbe prestarsi molto bene allo scopo. Proviamo quindi a imbrattare del poliestere con un poco di colorante disperso rosso applicato per fulardaggio. Dopo il trattamento Plasma il risultato è molto incoraggiante, il tessuto sembra perfettamente ripulito. Il gas più efficace sembra essere l'idrogeno, beh c'era da aspettarselo. Averlo non è un problema. Si può produrre sul posto per elettrolisi dell'acqua o prelevarlo da una bombola comunemente utilizzata per la saldatura. La distruzione del colorante si ottiene facilmente, un paio di minuti sono sufficienti e l'effetto è permanente. Plasma Solution ha anche a disposizione una macchina plasma roll to roll, sviluppata per applicazioni su bobine di film plastico e senz'altro adatta ai nostri scopi. Così facendo, pur restando sempre a livello di laboratorio, facciamo un primo scale up del nostro processo. Notiamo una cosa. Come concezione questa macchina assomiglia molto a una macchina di tintoria a noi nota, un giga sotto pressione. Fatto comune di entrambe le macchine è quello che il tessuto è avvolto su una bobina che si svolge, viene trattato e poi si riavvolge su un'altra bobina. Ma vediamo un po' i risultati. Il test di solità all'acqua è molto interessante. Lo stripping con idrogeno ha funzionato, ha eliminato l'eccesso di colore che invece è presente sul campione non trattato. Direi non ha nulla di così diverso da uno stripping con soda e idrosulfito. E comunque anche il vapore d'acqua sotto forma di plasma fa un ottimo, eccellente lavoro. Qui termina la presentazione. Il processo da noi è stato considerato interessante, tant'è vero che abbiamo presentato domanda di brevetto lo scorso settembre. Vi sono ancora comunque dei parametri da ottimizzare, ma speriamo di poter realizzare a breve un prototipo delle dimensioni di un giga tradizionale.